Si gioca a squadre, una squadra contro l'altra, vi ricordo le regole, dovrete far indovinare ai vostri compagni di squadra le immagini che vedrete sull'headwall con dei rumori, con dei suoni, non potrete mimare ma dovrete utilizzare i suoni. La prima squadra è fatta di tutti i campioni, Nathalie, Herbert e Francesco Manco. Allora, chi si trova nella posizione di Francesco dovrà emettere i suoni, poi ruotate. Siete pronti? 3, 2, 1, via il tempo, prima immagina. Ma lui la prende sempre larga. Va a lavarsi i denti. Colazione, uscire. Ma che è? Questo non è un suono. Dai, ma che significa? L'autombulanza. Ci vorrebbe, ci vorrebbe ma non è. Ma che vuol dire? Ma perché sei partito dal letto? Sei partito da lì perché ti voleva dare un contesto casalingo evidentemente. E ho capito, la porta che si apre. Sì, ma in questo caso. Cicola. Cicola, cicola, cambio, cambio. Non potevi fare il seguito della porta. Cambio, vai, vai, vieni, Nathalie, vieni, Nathalie. Herbert, prossima immagine. Un ventilatore. Senza neanche la testa è impossibile. Non lo sa fare. Fai. Ma si è rotta, si è rotta, si è rotta. Ma che è? Una pentola a pressione. No, ma è un elettrodomestico. Un frullatore. No, in questo caso Nathalie ha ragione, scusate. Però frullatore, ci siamo da vicino. Un altro elettrodomestico. Questa è una funzione. Che sta vicino al frullatore, di fronte. Ma quando mai? Ma quando mai? Ma che casa c'è? Ma a casa tua. Ma perché lei conosce casa tua? Io ho la cosa qua e il frullatore sta là. Ma non ci interessa dove ce l'hai tu. Allora, è una funzione specifica di un elettrodomestico. È un po' come un frullatore, Nathalie, ma è un po' più grande. E fa così. Non cucino tanto. Eh? Non cucino tanto. No, non è in cucina, non è in cucina. Io non cucino tanto. Ma chi se ne frega, guarda bene. Un cucino può essere. Può essere anche in cucina, però non fa parte degli elettrodomestici per cucinare. Ci fanno l'amore sopra. Però lei non conosce l'Italia. Una centrifuga. Centrifuga, brava. Cambio, 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 cambio. Vieni Nathalie. Ma non l'avevo già detto. Centrifuga, girati. Prossima immagine. Oh, facile. La batteria. Batteria, bravo. Bravo, bravo. Dai che ne abbiamo fatti pochi, dai. Cambio, cambio, veloce. Veloce, veloce. Non partire però dall'anno scorso. Non deve fare gesti. È un gioco di suoni. Moto. Moto cross. Moto cross. Motocicletta. Motocicletta, bravo. Cambio, 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 cambio. Veloce, 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 veloce. Veloce, veloce, veloce. No. Mamma mia. Posso dire mamma mia? Posso dire mamma mia? Posso dire mamma mia? Mamma mia che non bella. Eh, no. Però. Ma... E di qualcosa però. E di una cosa. Uno si sveglia al mattino. Quando uno si sveglia al mattino, che fa? Stira mente. Eh. Sti. Sbadigliare. Stira. Stira. Non sa l'italiano. No, no, no. Stira. Chiare. 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 Stira chiare. Stira chiare. Brava, brava. Cambio, cambio, cambio. Cinque immagini. Cinque immagini. Facciamo un bel applauso a Nathalie, Herbert e Francesco Barco. Tornate a posto, tornate a posto, perché adesso tocca Massimo Lopez, Andrea De Logu e Giovanni Esposo. Brava. Giovanni. Facevo le maratone di Likra io, eh. Le maratone facevo, eh. Stai particolarmente bene così. Eh, lo so. Vai Gio. Sei pronto? Vai Gio. Perché io qua? Tre, due, uno, via il tempo, prima immagine. Trapano. Più grosso. Martello pneumatico. Martello pneumatico, bravo. Cambio, cambio, cambio. Campioni, campioni. Seconda immagine. Frullatore. E spazzolino elettrico. Spazzolino elettrico. L'ambito è quello. Trapano del dentista. Sì, perfetto. Perfetto. Cambio. Cambio. E' perfetto, bambino che piange. Bambino che piange. Bravo, bravo. Cambio. Ehi. E' perfetto, ragazzi. E' perfetto. Mi sembra di vederlo. Ehi. Ligatore. Sì, l'igatore è un po' nato. Cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio, cambio. Non è vero. Questo? Come fa? E' la gallina che fa l'uovo? No. Ma che guai? E' tale qua. E' un po' nato. E' un po' nato. Succiami. Piaggio, vieni un attimo qua. Tu direte quanto è brutto da qua. Ti prego, non hai idea. Beh, ma anche da dietro. No, no, ma davanti, guarda. No, non te lo metti. Tu continua a fare il gioco, guarda. Assaporare, succhiare, risucchiare. Cosa? Cosa? Liquidi, acqua, vino, succo di frutta. Guarda, lo fa benissimo. Brodo, il Brodo. Brodo, il Brodo, il Brodo. Sei immagini, sei immagini. Vince la squadra di Giovanni Esposito, Andrea De Lombo e Massimo Lopez. Ehi, ehi. 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 Grazie.